Ciao ragazzi e ciao ragazze, ieri sera sono stato ospite da dei ragazzi fantastici su un canale di youtube, mi sono divertito un casino, grandi tutti e tre, ma dopo stamattina mi è capitato di ascoltare certi tifosi della squadra quella della Repubblica Monarchica che c'è la Isabaudi a Torino e sento che insultano, denigrano, vogliono staccare i capelli, staccare le parrucche, vogliono toglierlo dalle scritte, le targhe che hanno in quello loro piccolo stadio che c'è a Torino, ma poi il loro il loro linguaggio è molto offensivo nei confronti di questo uomo, secondo me veramente qua bisogna noi tifosi dell'Inter dobbiamo in tutte le maniere essere differenti da loro ragazzi, il nostro essere nero azzurro ci deve distinguere tutti i giorni, noi il signor Armando Picchi, questo adesso non è, non voglio fare il professore, voglio fare il conoscitore della storia della mia squadra, che è una cosa differente, noi il nostro Armando Picchi è stato il capitano di una delle squadre più forti di tutta la storia del calcio, lui vinse due coppe dei campioni, lui vinse due coppe del mondo, lui vinse quattro scudetti con la fascia di capitano di questa grande squadra nata in tre a quattro anni, costruita da Moratti e dal signor Herrera, piano piano e ce lo fecero anche loro in tre anni, lui terminata la carriera andò ad allenare i giovani giocatori della Juventus, ma i tifosi dell'Inter non fecero tutte queste scene, queste scene da clown, da pagliacci, la cosa bella è che loro si permettono delle volte di chiamarci a noi pagliacci, ma io ascolto degli uomini di 40, 50 anni che dicono delle cose veramente, parlano con cattiveria di Conte, ma ragazzi, ma c'è il professionismo nel gioco del calcio, allora Picchi cosa dovevamo dire noi? Che è stato il primo capitano della storia ad aver vinto, in due anni hanno raddoppiato tutto quello che avevano l'anno prima e hanno rivinto l'anno dopo, cioè ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Ma cercate di analizzare il gioco del calcio, è un'altra cosa, io chiedo ai tifosi, i pseudo e tifosi sportivi nerazzurri, non lasciatevi trasportare da questo decadimento totale della vita nel sociale, no? Perché non avrete mai delle grandi soddisfazioni, non crescerete mai, soprattutto i giovani, ragazzi, uno, la dimostrazione, ho visto gente di 50 anni che dice veramente, parla con cattiveria sui canali del tubo, parla con un odio che veramente, fra umani, io lo trovo disgustoso, io pensavo che la razza umana si doveva evolversi, no? Perché se no siamo davvero peggio delle scimmie, Gesù Maria Santa Immacolata. Quello che voglio dirvi ragazzi, questo è un messaggio chiaro a tutti i tifosi dell'Inter, giovani e vecchi che mi seguono, noi dobbiamo distinguerci, ci siamo sempre distinti da loro, capito? Loro non possono arrivare a parlare di calcio, possono arrivare fino a un certo punto, perché dopo non ammettendo certe cose si devono fermare e devono cominciare a insultare, a provare, a distribuire odio a destra e sinistra, ragazzi. Qua c'è un professionista, come ci sono stati migliaia di professionisti che sono andati a giocare, poi sono diventati dei grandi allenatori, sono andati da altre società, ma è normale che se tu sei un grande allenatore dove vuoi andare a allenare in Italia? Ma dove vuoi andare? Mancellotti dove vuole che vada? Dove è andato a allenare in Italia? Nel momento clou di chi? Di Moggi e di Gagliani, dove era a allenare? Il signor Mancellotti, ragazzi. E così Conte, Conte ha visto, a Juventus in questo momento c'era Sarri, no? Che guai, Sarri non si può toccare perché è comandante Marcos, Narcos. E allora è andato all'Inter che in questo momento, secondo me, l'Inter, se non arriva uno degli uomini più ricchi della Francia, l'Internazionale è l'unica squadra che nei prossimi anni può dare fastidio alla società monarchica che abbiamo in Italia. Mettetelo nella testa. E quindi ci vogliono le migliori persone a partire dai coach. Cioè non capisco questa cattiveria, questo odio continuo, ma parliamo di calcio, parliamo di questi finti esperimenti che vi stanno inculcando nel cervello, ho sentito anche ieri. Conte non vede l'ora di iniziare la nuova stagione con altri uomini, ragazzi, perché se no se ne va. Fa la fine di Mancini. Se quest'anno, quest'estate non gli prendono almeno tre, 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 tre forti giocatori. Conte se ne va. Perché Conte, 12 milioni, lui potrebbe starsene zitto. Chi me lo fa fare? Quando faceva le interviste a Spalletti, che è un tipo un po' differente, vi ricordate che non si capiva un cazzo delle interviste che faceva? Invece Conte si fa capire, si fa capire molto bene. Ha iniziato già a Dortmund a dire la sua sulla rosa. Ok, ma lui poteva stare zitto tutto l'anno, 12 milioni, chi me lo fa fare di parlare, di giudicare la rosa che ho a disposizione? E non credete agli esperimenti. La squadra che mette in campo stasera, un po' è obbligato, è un po' la deve mettere in campo perché deve giocare queste partite che sono inutili. Ci diranno il secondo posto vale più del quarto, ma non è vero. Non è vero. Questa Conte, non vede l'ora di iniziare una nuova stagione con altri 4-5 personaggi veramente importanti che ci fanno fare davvero il salto di qualità. Ok? Comunque ricordatevi sempre, Picchi era il capitano della Grande Inter. Non l'ho chiamata io, Grande Inter. La Grande Inter l'hanno chiamata gli esperti di calcio, non io. Quindi non vi offendete se dico che Armando Picchi era il capitano della Grande Inter è andato ad allenare la squadra Sabauda, appena iniziato. No, perché l'Inter in quel momento lì c'erano tanti i suoi ex amici e non poteva fare l'allenatore. Ciao ragazzi. Era solo un piccolo pensiero per tutti i giovani neroazzurri. Prima di parlare informatevi sulla storia dell'Inter e dei giocatori dell'Inter. Poi cominciate a parlare ragazzi. Ciao.